Mi pare che si confermi una compattezza fondamentale e sostanziale del centro-destra che domani si presenterà compatto al Quirinale con chiaramente i suoi partiti fondamentali e anche con i partiti più piccolini. Vogliamo dimostrare come sempre che c'è una alternativa che nel caso in cui finalmente si restituisse la parola agli italiani e si consentisse agli italiani di scegliere la maggioranza che deve governare la nazione sarebbe in grado di dare all'Italia un governo solito. Continuiamo a ritenere che questo a pantomima sia assolutamente indegna di una nazione civile soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando in cui gli italiani non hanno voglia di sentire parlare di alchimie, di palazzo o di poltrone ma vogliono vedere risolti i loro problemi. E non ci ricattino e non ricattino gli italiani su temi come il recovery fund piuttosto che i ristori, piuttosto che le necessità di cui l'Italia ha bisogno perché abbiamo ampiamente dato la disponibilità già da giorni nel caso in cui anche se dovessero sciogliere le camere si dovesse andare a votare ad assumerci le nostre responsabilità in attesa che si voti dal recovery fund in poi perché noi siamo responsabili e chi continua a parlare solo di poltrone e blocca l'Italia che è totalmente irresponsabile.